Bella a tutti ragazzi, siamo qua su questo nuovo video, qua abbiamo fatto una sfida tra me e mia sorella, lei ha perso due partite e una ha vinta, io le ho perse tutte e tre, mio fratello non ha vinto manco una ora io le dovrò dare 2 euro a mia sorella, bene la live non finisce qui, vabbè andiamo ad aprire la cassa, 12 di monete, colt, ce l'ho a Noemi? Sì, no lo devi tenere però molto forte, non posso domani se ti senti una domanda, così per tanto tempo? Io secondo me lego Qua Mi fa lasciare Mi lego, mi lego No, no, no Perché? Così ti metto Ah ah, faccio assedio Ah ah, faccio assedio Ragazzi, non ho solo questa partita, eh? Altre due Altre due, però se perdi un'altra Non è più la sfida Dai, finisì Bene Allora come on come è? e lui non è stato riuscito a fare non dice le mani, non è stato subito non è che la metterà si è raro si è vede a casa non è solo Caudi, c'està la cosa! Caudi, c'està il bani. Caudi, c'està il bani. ma non lo so, non lo so non lo so non lo so non lo so te lo lasciare è giocato normale non te lo metto che gioco ci rischiamo per domani? vedo se lo spiego la notte per la giudicazione non dai non dai non è tolore non che cosa che non mi dava stare non mi dava stare non mi dava stare ma qui con il robot non è diventato non è né Sì 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 Grande Raga direi che la partita finisce qui, la live finisce qui e ci vediamo nel prossimo video